e ciao a tutti eccoci qua con un altro semplice tutorial oggi vediamo come andiamo a creare un percorso utilizzando solo inspector il viewer e le curve per tracciare un percorso di un video questo è un background che abbiamo di sottofondo con delle bollicine e vado a inserire un video con delle ragazze in spiaggia ok vado a selezionarmi il punto e poi vado a decidere la lunghezza e vado a tagliarlo ditemi anche se il cursore che ho cambiato vedete ho messo un bel cursorone giallo grande è più visibile nei tutorial bene allora adesso ne abbiamo qua il nostro video vogliamo rimpicciolire il video per farlo entrare da sinistra così fare un percorso arrivare a pieno schermo innanzitutto selezioniamo il video e lo andiamo a rimpicciolire eccolo qua con zoom zoom alla catenella e quindi tiene in rapporto legato lo zoom x e lo zoom y ovviamente sganciando questa catenella cliccando qua svincoleremo le due risoluzioni x y e quindi potremo variare la dimensione del video in entrambe le direzioni ma non vogliamo quindi lo riagganciamo come faccio a invece posizionare questo video direttamente a schermo molto semplicemente clicco qui su transform si accende e come vedete ora posso vedere tutte queste maniglie a schermo sia per ridimensionarlo tirando qua per spostarlo tirando in punto in centro per ruotarlo cliccando qui in alto e effettuando una rotazione vedete anche un angolo che mostra di quanto sta ruotando comunque poi tutti i valori mentre faccio qualcosa vengono riportati qui per azzerare un valore basta fare un doppio clic sul nome oppure un clic qui sulla rotellina quindi spostiamo sull'inizio della clip spostiamo questa clip fuori vedete che il rettangolo resta visibile vado a cliccare sui keyframe di ciò che voglio animare cioè zoom e position mi sposto nel tempo e praticamente sposto in dentro il mio video vedete che si crea anche questo vettore con questi puntini più piccoli che mi indicano che l'oggetto si muoverà da qua a qua e in maniera lineare con questi puntini che sono equidistanti quindi arrivato qui mi sposto ancora vado a zoomare tutto il mio oggetto e posizionarlo quindi ho cliccato due volte qua e vedete che mi viene indicato e anche il terzo keyframe quindi un keyframe 2 keyframe 3 keyframe come vedete questo movimento è lineare e per cui da questo frame il mio oggetto partirà e a scatto andrà là e qua l'unica cosa che abbiamo visto uniforme è la zoomata che è incominciata da là e si è ingrandita fino all'ultimo keyframe questo keyframe centrale come vediamo è lineare cioè il movimento come avete visto ha creato uno spigolo come facciamo a cambiare una maniera è portarci sopra questo keyframe premere tasto destro e abbiamo linear e smooth e abbiamo anche la possibilità di cancellare questo keyframe se mettiamo smooth cioè morbido vedremo una curva e cliccando qui potremo vedere intanto quel keyframe e queste maniglie aggiuntive che ci permettono di stringere e allargare questa curva con il tasto control potremmo muovere solo una delle due curve indipendentemente vedete se invece non premo niente muovo entrambe le curve queste cose mi permettono di definire come sarà la mia curva sia il raggio che come vedete l'inclinazione ovviamente questa cosa si può fare su anche altri keyframe quindi creare smooth per aggiungere anche qui una curva come vedete in più se allontano questo cursore in questa maniera oltre allargare la curva vedete che questi puntini hanno un distanziamento diverso cioè qua sono un po più vicini qua sono più lontani questo farà sì che anche il movimento sarà diverso più lento più veloce andiamo a vedere cosa succede in questa maniera e vedremo che la nostra immagine compie vedete una cosa più smussata anche se qua è un po' andata a scatti perché abbiamo ridefinito una curva che non era non era proprio eccezionale quindi possiamo fare così proviamo a rivedere ecco e come avete visto in questa maniera possiamo andare a creare una animazione delle immagini che entrano inoltre voglio farvi vedere anche un'altra cosa quando creiamo un keyframe smooth oltre avere le maniglie della curva adesso l'ho ingrandito molto per farvi vedere qui abbiamo altri due punti interni su questi vettori delle maniglie questi puntini più piccoli servono come vedete per avvicinare o allontanare questi punti della velocità diciamo del percorso quindi se noi stringiamo così e anche dall'altra parte possiamo regolare questi puntini abbiamo che da questo punto a questo la velocità è ridotta mentre qui vicino alla curva la velocità sarà maggiore e indicata dai puntini che si trovano più vicini se invece noi andiamo ad allontanare rallenteremo anche la velocità in curva perché distanzieremo questi puntini ecco cosa servono le maniglie delle curve esterne e questi puntini più interni che come vedete vanno a regolare i punti puntini del percorso lungo il percorso questa curva se noi sulla nostra clip clicchiamo questo rombo vediamo dove abbiamo inserito questi keyframe questo ci dà la possibilità anche di spostarli nel tempo ad esempio voglio che la mia immagine parta dall'inizio e non da dove si trovava anzi voglio spostare tutto il movimento molto all'inizio della clip e quindi vedete che posso riposizionare i keyframe vediamo vedete che la mia immagine parte subito se io invece li vado a spostare avanti questi keyframe la mia immagine il mio video partirà dopo e eseguirà in questo movimento qui inoltre posso fare un'altra cosa cliccando sulle curve posso visualizzare come vedete queste curve con i keyframe qua avrò cosa in quel momento andrò a vedere la curva quindi posso fare tutto e avrò visualizzato tutte le curve oppure potrò scendere sulla singola curva ad esempio la posizione X e questi sono i keyframe della posizione X quindi se io sposterò questo punto vedete che sia posso spostare proprio il punto nella posizione X senza toccare la Y e posso anche variare la curva come prima attraverso queste maniglie attenzione che sarà in riferimento solo al valore X cliccando qui potrò fare la stessa cosa con il valore Y ad esempio e quindi spostare questa curva come vedete solo in Y e variarne il valore spostando qui variare la curva muovendo le maniglie tutte queste cose ci permettono di ammorbidire e variare la curva abbiamo anche Z, X e Y e quindi possiamo andare a variare anche la dimensione vedete se andiamo con questo keyframe ad esempio a questo zoom X non c'è una differenza ma se andremo a crearla noi cliccando qua si creerà un altro punto con Alt e potremo cambiare la dimensione adesso siccome i parametri sono legati anche se io muovo solo zoom X in realtà muoverò tutti questo può essere anche una maniera di andare a ritoccare i keyframe questo posso farlo anche in un parametro anche se non l'avevo determinato come ad esempio la rotazione l'angolo di rotazione posso cliccare Alt creare come vedete una rotazione ovviamente dovrò cioè così alzerò la rotazione sarà su tutto perché io non ho attivato i keyframe invece ripremendo Alt qui si dovrebbe attivarsi i keyframe e dovrei poter variare il valore vediamo vedete che ora parte da così e ruota e si sposta eccolo qua qui se lo voglio correggere andrò a cliccare e ruotare e eccolo qua quindi vedete che attraverso questi keyframe adesso ho inserito completamente la mia animazione adesso qua ho fatto un bel pasticcio come al solito per spiegarvi tutta questa cosa possiamo farla ovviamente non solo con un video ma possiamo farla anche con un testo quindi la cosa diventa più interessante per creare delle animazioni qua ad esempio vado a scrivere animazione vado a colorare la mia scritta poi facciamola di un arancione mettiamo un bel extra bold lo ingrandiamo così andiamo ad aggiungere su shading anche un contorno lo attiviamo eccolo qua e lo vado a ingrandire lasciamolo pure rosso e adesso se voglio ad esempio creare un'animazione a questa scritta posso andare su setting e ripetere quello che abbiamo fatto con il video vedete posso ridimensionarlo posso ruotarlo posso portarlo fuori schermo attenzione allo spostamento fuori schermo vi conviene prendere qua perché se prendete il centro spostate più point che non è la stessa cosa quindi vado a attivare tutti i miei keyframe su quello che voglio animare faccio così sposto la mia scritta vedete che creo i miei punti di animazione addirittura lo farò così su più punti questa volta per arrivare qua dove andrò a ingrandire la mia scritta e la porterò grande ovviamente attenzione qua sono tutti punti lineari quindi posso andare a intervenire e fare smooth come abbiamo fatto prima nei punti che mi interessano andiamo a vedere disattiviamo qui e abbiamo ecco qua la nostra animazione possiamo altresì intervenire qua sul punto che se clicchiamo il tasto destro sarà linea possiamo fare easy in out in questa maniera questi punti saranno più più morbidi ancora vedete che si è ammorbidita la nostra animazione dando easy in out e se andiamo a vederla eccolo qua ecco qua anche con lo stesso video possiamo moltiplicarlo accendiamo qui questo video lo facciamo piccolo e lo inseriamo qui quest'altro video lo facciamo piccolo vedete come lavoriamo su più linee e lo inseriamo ad esempio qui è possibile anche selezionare due tracce in questo caso come vedete non abbiamo un riferimento perché hanno valori diversi ma se facciamo uno spostamento andremo comunque a sommare o sottrarre dal valore singolo che hanno il valore che andiamo ad aggiungere quindi è molto comodo per fare ad esempio animazioni di questo tipo vedete questo è molto interessante quindi se vogliamo farle ruotare assieme possiamo fare così e quindi creare animazioni interessanti ho preso la prima cosa che mi capitava una farfalla in png la vado a mettere sopra eccola qua e qua come prima se attivo qui posso andare a farlo direttamente a schermo eccolo qua la ruoto ad esempio e faccio che questa farfalla venga da qua fuori vado a memorizzare a memorizzare tutto ecco qui faccio lo spostamento di questa farfalla avete visto che posso anche allargare per prendere oggetti da fuori quindi possono esserci tranquillamente oggetti fuori campo e che poi li trasciniamo in campo se vogliamo far sbattere le ali alla nostra farfalla potremo ad esempio sganciare qui quindi facciamo avanzare qui stringiamo vedete solo x poi ci spostiamo riallarghiamo x poi ci spostiamo allarghiamo lo ridimensioniamo eccetera e procediamo così per quante volte vogliamo far sbattere ali in realtà se andassimo in fusion potremmo fare molte cose in più ma adesso io non voglio usare fusion è per farvi vedere solo usando queste cose vedete guardate cosa siamo riusciti a ottenere una cosa abbastanza carina dai bene io vi ringrazio di aver seguito anche quest'altro tutorial e ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti